stamattina alle 5 ho scoperto che questa piazza fanno il mercato all'ingrosso del pesce c'era un casino alle 5 di stamattina incredibile bello però abbiamo lasciato a citrezza stiamo passando dentro quella che si chiama catania dove andiamo dove andiamo sorpresa non lo so nemmeno io sto guardando su google map un'area sosta vicino al mare che devo fare carico ci troviamo all'area camper praticamente tra il porto e l'aeroporto di catania ci sono nel mezzo oggi è una giornata spettacolare fa un caldo che si muove c'è un po di vento fa veramente caldo quando hai tutti i spezzoni di pasta mista che pensi di fare che pensi di fare con la pasta mista stiamo arrivato nel momento non so voi come la fate la pasta e patate io metto tutto insieme e poi ne ho fatta un po imparato in più perché mi piace la sera riscaldata bella azzeccata eh bella azzeccata te l'ho messa anche a te le patane va bene un po di pecorino un po di pepe che a me ci piace assaggeremo il vino di mia sorella che mi ha regalato a mia sorella e poi che altro dirvi signori buon appetito ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.